1952, ben trovati, questo è un anno che davvero vi appassionerà. Noi vi racconteremo intanto una notizia che vi farà sognare, poi un film che ci farà riflettere, commuovere e pregare e due canzoni davvero emozionanti. Tra l'altro chi vinse quel festival di Saremo era la seconda edizione, la prima ve l'abbiamo già raccontata qualche appuntamento fa, soprattutto chiamateci e diteci cosa accadeva nelle vostre case nel 1952. Entriamo allora nel cuore di questo anno e la storia di oggi, che comincia a Londra nel 1926, quando una persona molto influente di nome Albert e sua moglie Elizabeth mettono al mondo la loro primogenita. È una bambina attenta e molto legata al nonno. Ha una sorella di tre anni più piccola di lei, che si chiama Margaret. La sua è una famiglia ricchissima e per i suoi studi può avvalersi dei migliori insegnanti del paese. Studi molto orientati alla storia e alle lingue, soprattutto quella francese che riesce a parlare fluentemente. Ha 13 anni quando, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, è costretta a lasciare la sua residenza e, pochi mesi dopo, fa il suo primo annuncio radiofonico, indirizzandolo ad altri bambini che, come lei, erano stati evacuati. A 21 anni, invece, quando accadono molte cose importanti nella sua vita. La sua prima visita ufficiale fuori dal Regno Unito, accompagnando i genitori in Sudafrica, un importante discorso radiofonico in cui dichiara che dedicherà tutta la sua vita al servizio della gente, la sua gente e, soprattutto, il matrimonio e la vita in una casa nuova. Quattro anni dopo, la salute di suo padre peggiora notevolmente e lei lo rappresenta in numerosi eventi, dalla Grecia a Malta all'Italia fino in Canada e in Kenya. Ed è proprio lì che suo marito, Filippo, Filippo di Edimburgo, la informa della morte di suo papà Albert, fino ad allora regnante come Giorgio VI. È il 6 febbraio del 1952, l'anno che vi raccontiamo oggi, quando lei, che si chiama Elisabetta, in qualità di erede al trono, diventa regina, la regina Elisabetta II d'Inghilterra. La regina Elisabetta, in qualità di erede al trono, diventa regina, 60 anni di regno per il sovrano che ha viaggiato di più di tutti i tempi, tra l'altro il secondo regno più lungo dopo quello della regina Vittoria. 12 primi ministri che si sono avvicendati da quel giorno fino ad oggi, quattro figli, Carlo, il primo genito, seguito da Anna, Andrea ed Edoardo. Mentre nel 2002, nel giro di poco più di un mese, sono venute a mancare sia l'anziana madre sia sua sorella Margaret. Questa è la storia di oggi, ma tra poco un'altra emozione ci verrà regalata, invece, dalla prima delle due canzoni che andremo ad ascoltare. Io sono curioso, però, di andare al nostro divano, perché Lucia, oggi c'è un parterre davvero eccezionale. Ma guarda, lo stavo commentando. E sono impaziente di sentire i loro ricordi. Silvio, guarda quanto siamo bravi. 1952, prof. Nel 1952 ho fatto la prima comunione lacrisima all'Istituto Massimo dei Padri Gesuiti. Elda, pena notiziona. È nata la televisione sperimentale. Dottor Catone, 52. Devo ripetermi, ho incontrato mia moglie. E che vuoi più della vita, Bonelli? Nacqui 20 anni dopo. Tonti. Giocava a pallone benissimo. Ma che cosa vuoi di più, Vitelli? Abbiamo superato noi stessi stamattina, hai visto? Abbiamo fatto l'on plan al divano, grazie Lucia. Poi magari se abbiamo occasione ci torno perché qualcuno di quegli spunti erano molto interessanti. Noi invece di musica, allora parliamo come vi avevo detto, c'è una canzone che ci ha fatto emozionare, una canzone che abbiamo conosciuto qualche anno dopo, ma che è stata scritta proprio nel 1952. Ascoltiamola. Non me lo dì amore A chi l'hai dato il cuore La verità fa male L'alzame sta a visione Espera L'alzame sta a visione L'alzame sta a visione Si è mai lasciato ancora Non lo dì No Non lo dì Non parla Sei una donna O una strega Chissà E allora, Cento campane, scritta proprio nel 1952 da Fiorenzo Fiorentini, che oltre ad essere un attore era anche un sceneggiatore e compositore, e venne però pubblicata molti anni dopo, nel 1971, come sigla di uno sceneggiato televisivo che vedeva protagonista Ugo Tagliai, che ebbe un grandissimo successo all'epoca, e lo sceneggiato si chiamava Il segno del comando. E la canzone, nella sigla dello sceneggiato, veniva interpretata da Nico Dei Gabbiani, ma successivamente Lando Fiorini la reincise e la sua versione divenne ancora più famosa di quella di Nico. Tra l'altro so che sul nostro divano c'è qualche aneddoto, quindi tra poco torniamo anche da loro, però adesso vi voglio portare un attimo al cinema, perché ci fu un film, traduzione hollywoodiana, che ci ha fatto commuovere e anche pregare tanto. Ascoltiamolo nel racconto di Eugenia. I protagonisti di questa storia sono tre pastorelli, Lucia, di dieci anni, e i suoi cugini, Giacinte e Francesco, di sette e nove anni. Il 13 maggio 1917, mentre i pastorelli si trovavano al pascolo con il loro greggio, preceduta da due lampi abbaglianti di luce, ecco apparire una signora splendente, che con voce soave e rassicurante, disse loro di non aver paura e le invitò a recitare il rosario tutti i giorni, annunciando che sarebbe apparsa il 13 di ogni mese per cinque volte. Il 13 giugno avvenne infatti la seconda apparizione. Lucia, di corsa, si diresse verso il luogo benedetto, seguita dai cugini. La signora apparve con un vestito bianco e con il rosario in mano. Voleva riparazione ai peccati dell'umanità. Varie migliaia di persone si trovavano il 13 luglio al luogo benedetto per vedere i bambini parlare con la Madonna. Ormai la fama suscitata dalle apparizioni era diventata un fatto pubblico. A mezzogiorno in punto, preceduta dal solito lampo, la signora comparve, chiedeva con bontà, devozione al suo cuore immacolato. Il 13 agosto i ragazzi non poterono andare all'appuntamento a causa dell'intervento del sindaco del paese. La domenica successiva, il giorno 19, i bambini ebbero una inaspettata sorpresa. In un luogo vicino, la Madonna apparve loro mentre pascolavano il gregge. Lucia le chiese cosa voleva che si facesse, dei soldi che la gente lasciava proprio sul luogo dell'apparizione. La Madonna rispose che dovevano servire alla costruzione di una cappella. E ad un mese esatto di distanza, tutti attendevano con ansia di poter vedere l'ultima apparizione. Circa 60-70 mila persone recitavano il rosario sotto una pioggia incessante. Un classico del cinema davvero che ripropone fedelmente la storia di questi tre pastorelli nell'apparizione di Fatima. A Hollywood, tra l'altro prodotto, nove anni dopo Bernadette, che vi abbiamo raccontato nella puntata dedicata al 1943. Questo film invece con G.B. Rowland e Angela Clark. Noi vi stiamo raccontando il 1952. Tra poco andremo ancora alla musica a scoprire chi vinse quella seconda edizione del Festival di Sanremo, il Festival della Canzone Italiana, ma nel frattempo entriamo nelle vostre case a scoprire cosa accadeva nelle vostre famiglie. Andiamo a Milano, dove c'è Paola. Buongiorno Paola. Buongiorno. Paola, intanto grazie per essere intervenuta. Io sto guardando la trasmissione vicino a mio padre, che ha 92 anni. E mi è venuto in mente che nel 1952, che io avevo due anni, è nato il mio quinto fratello. Ah, però... E tuttora siamo otto figli. E allora mi è venuto in mente che appunto quell'anno là è nato il mio fratello, che era il quinto di una famiglia di otto poi, che poi siamo arrivati in otto. Una bella famiglia grande la sua. Sì, sì, sì. Che cosa fai nella vita? Io? Sì. Ora sono pensionata, però ho lavorato al nido per 35 anni. Immagino ne piacciono i bambini. 35 anni al nido con i bambini piccoli. Com'è stata questa esperienza? Bellissima, bellissima. Ogni anno... Scusi? Prego, prego, ogni anno? Ecco, e ogni anno era una meraviglia vedere questi bambini crescere, perché li tenavamo per tre anni e allora era una cosa meravigliosa. Infatti io dico che il mio lavoro era il più bello del mondo. Grazie. Crescere i bambini, anche se non miei, però erano sempre bimbi che vedevo crescere. Anno per anno. Una schiera infinita di persone che potranno dirle grazie per il lavoro e la passione che ha dedicato nel suo lavoro, nei loro confronti. Grazie davvero e buona giornata. Io però, Lucia, scusami se torno da te al divano, però ho visto che durante la clip Centro Campane c'era un po' di movimento. E poi, soprattutto, quando Elda Lanza mi ha detto la televisione sperimentale del 52, io due paroline in più le vorrei ascoltare anche da lei. Elda, e ce lo vuoi raccontare quel 52? Sì, nel 52 la televisione non c'era, perché era la televisione sperimentale, si faceva da Milano. Mi avevano trovato su un giornale, io scrivevo su Grazia, e avevano pensato di farmi fare i testi, perché non era abbastanza bella. E mi hanno fatto fare 14 provini e poi hanno deciso che andavo benissimo. E sono mille trasmissioni, diciamo più o meno, questo è Elda Lanza. 14 provini, questo è un insegnamento anche per la TV di oggi, mica si va così soltanto perché si pensa di saper parlare. 14 provini sono il minimo indispensabile per stare davanti a una telecamera. Sì, mi hanno insegnato molto. Devo dire che ho imparato molto dalla televisione io. Intanto a stare in mezzo alla gente, innanzitutto a ascoltarla, che nessuno ascolta più, credo. Ed è un gran peccato. Comunque la televisione è nata con la mia faccia, che devo fare? Hai capito Vitelli, chi ci abbiamo oggi? Eh già, è davvero un onore e un'emozione avere anche il volto televisivo di quegli anni. Ma la domanda che vi ho posto sin dall'inizio è chi vinse quell'edizione del Festival di Saremo? Era la seconda edizione, perché la prima era il 1951, ve l'abbiamo raccontata qualche puntata fa. Prima, allora, erano tre cantanti e vinse Nilla Pizzi. Stavolta i cantanti erano cinque, Achille Togliani, Duo Fasano, Gino Latilla, Oscar Carboni e Nilla Pizzi. Chi vinse? Vinse il primo, secondo e terzo posto. Quindi con questo ha tutto il podio. Chi vinse? Lo vediamo insieme. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu, che tornerò. Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papà vero attese la papera al chiaro lunare e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo di vento i papaveri in alto portò. Così papaverino se ne è andato, lasciando papaverina impaperata Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti E tu sei piccolina, e tu sei piccolina Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti Sei nata papaverina, che cosa ci vuoi fare? Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti E tu sei piccolina, e tu sei piccolina Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti Sei nata papaverina, che cosa ci vuoi fare? Che cosa ci vuoi fare? E lì si incantò. Era milla vizia conquistare tutte e tre le prime posizioni Perché il meccanismo non era quello di oggi Per cui si riusciva a vincere anche in più posti Prima, seconda e terza classificata Con Bola Colomba, Papaveri e Papere Le canzoni che abbiamo ascoltato E Una donna prega Questo festival venne trasmesso Perché Alda Lanza ce l'ha detto La televisione era ancora nelle trasmissioni sperimentali Quindi anche questo venne trasmesso dalla radio Sul secondo canale radiofonico Nel gennaio di quel 1952 Noi facciamo qualche secondo di pausa E siamo ancora qui insieme a voi A tra poco Il tempo vola oggi al 1952 Vi abbiamo raccontato l'ascesa al trono della regina Elisabetta E poi abbiamo ascoltato Cento Campane Il film Nostra Signora di Fatima E poi Chi vinse il festival Gli saremo Nilla Pizzi con Bola Colomba Papaveri e Papere e Una donna prega Il tempo vola torna lunedì Grazie a tutti